Il campionato nazionale di roller è supportato da Comune di Peschiera del Garda, Comitato ICS di Verona, Street Food, l'osteria, mangiare di strada, Roxa, inline skate, Acervis, Il Pentagono, Rant Boat, Pizzeria Il Gabbiano, Napulè, Risto Wine Bar, Vaimo, Food and Drinks, Gioielleria Polver, nel centro storico di Desenzano del Garda, in via Achille Papa, 22, Gelato e Caffè, gelateria storica di Peschiera, nel centro storico in via Dante, Il servizio di risalita con il Bell Italia Train è offerto da Furry Autotrasporti Thank you and now enjoy the Gravity Games, the National Skating Championship Grazie 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 Grazie